I ghiacciai sembrano qualcosa molto lontano da noi, soprattutto da qui, dal cuore della pianura padana, qualcosa che là, sulle Alpi, sull'Himalaya, sulle grandi catene montuose, e il nostro mondo va avanti senza che ci interessiamo troppo di loro. Ma se vi dicessi che i ragazzi di oggi non potranno portare i loro figli a vedere questi spettacoli della natura, vi attirerebbero un po' di più la vostra attenzione? Ebbene sì, fra 50 anni i ghiacciai che come esistono e conosciamo ora non esistono più, saranno ridotti a piccole placche di ghiaccio sulle cime più alte, difficilmente raggiungibili e anche decisamente meno spettacolari. Saranno localizzati appunto solo sulle cime più alti e forse i nostri nipoti ci chiederanno perché il Monte Bianco si chiama così, pur essendo grigio. La prima volta che sono andato sul ghiacciai ormai sono passati dieci anni, il ghiaccio dei Forni in Alta Valtellina, uno dei più grandi ghiacciai italiani. Ecco, oggi per percorrere la stessa, per arrivare sul ghiacciai bisogna percorrere 250 metri di sentiero in più. E questo è il ritiro di un ghiaccio in soli dieci anni. 250 metri in più mai sono un numero un po' strano e se vi dicessi due campi da calcio e mezzo, nove campi da pallacanestro, la prospettiva magari cambierebbe. E se avessimo la capacità di andare un pochino più indietro nel tempo, la situazione sarebbe ancora più drammatica. Nel 1989, anno in cui sono nato, avremmo dovuto percorrere addirittura sette campi da calcio per giungere sullo stesso ghiacciaio. E a inizio secolo, a inizio novecento, anno in cui più o meno sono nati i miei nonni, avremmo dovuto percorrere addirittura venti campi da calcio. In poco più di cento anni, due chilometri di valle che prima erano ricoperti da ghiaccio, ora sono boschi, sono praterie. Tutto questo sotto i colpi del cambiamento climatico. Ghiacciai più piccoli, ghiacciai più frammentati, ghiacciai più grigi, da tutti i detriti che vi cadono sopra. Ma quanti sono questi ghiacciai alpini? Prendiamocene conto di quanto stiamo parlando. Possiamo rispondere a questa domanda grazie a un recente studio fatto in collaborazione con alcuni scienziati di paesi europei. Ghiacciai alpini sono tanti, novecento quasi, 879 per la precisione. Ci sono ghiacciai su tutte le Alpi, l'Italia ospita un quinto di tutti i ghiacciai delle Alpi. Abbiamo anche un piccolo apparato sull'appennino, il ghiaccio del Calderone, ormai in disfacimento. Questi ghiacciai non sono più giganti, ghiacciai giganti sono pochi, sono piccoli, sono rimasti piccoli, limitati appunto a conche esposti a nord che si proteggono dal sole. Questi ghiacciai coprono 325 chilometri quadri. Un dato che messo lì così magari non dà un'idea, ma se vi dicessi che coprono un'area paragonabile più o meno a quella del lago di Garda, forse vi rendereste conto di comunque quanto essi siano importanti sulla nostra Italia. Questi ghiacciai, come vi dicevo, stanno arretrando in maniera molto significativa. In soli 60 anni hanno perso circa il 50% della loro area. 130 chilometri di quadri di ghiaccio, ora non ci sono più. Ora sono fusi, sono scesi lungo i fiumi e sono ritornati a mare. Sempre per avere un'idea di quanto stia cambiando quest'area glacializzata in maniera un pochino più tangibile, 160 chilometri è l'area del lago di Como. In 60 anni abbiamo perso un'area paragonabile a quella del lago di Como in ghiacciai. I ghiacciai non si stanno solo ritirando, stanno anche cambiando la loro pelle. Noi vediamo ghiacciai più grigi, ghiacciai che si frammentano, ghiacciai più sporchi letteralmente e che cambiano il loro ciclo naturale delle cose. Abbiamo cercato di indagare un po' questo detrito che ormai copre i ghiacciai diffusi in tutto il mondo. Questo detrito ha diverse origini, una locale, pensate a tutto quel detrito, quelle rocce che cadono dalle pareti circostanti e arrivano lì sul ghiacciaio, ma una ben più importante ha un'origine molto più lontana, un'origine che arriva da noi, per merito nostro. Le superfici ghiacciai non più bianche appaiono grigi per colpa di questi piccolissimi elementi. Abbiamo raccolto il detrito, l'abbiamo analizzato, portato in laboratorio, abbiamo identificato questi piccolissimi elementi. Si chiamano cenosfere, sono piccolissimi, ripeto, sono molto più piccoli di un capello. Ma da dove arrivano queste cenosfere? Queste cenosfere sono il prodotto della combustione di idrocarburi, di carbonfossili in alti forni o comunque nelle centrali termoelettriche, colpa nostra quindi. Queste piccole particelle vengono prese in carico dalla circolazione atmosferica, arrivano sul ghiacciaio, precipitano, rimangono intrappolate all'interno del ghiaccio, precipitano sotto forma di neve, questa neve diventa ghiaccia, rimangono intrappolate lì. Si accumulano addirittura. Ecco questa forte fusione glaciale in atto le libera sul ghiacciaio dove appunto noi in una delle nostre campagne le abbiamo ritrovate. Poco male direste voi. Tuttavia queste cenosfere, queste piccole particelle sono scure, nere, sporcano il ghiacciaio. L'importanza di queste cenosfere è veramente alta per la vita del ghiacciaio, perché esse sono nere, hanno la capacità di assorbire in maniera molto molto efficace il calore e trasferirlo quindi al ghiacciaio. Il ghiacciaio si fonde e quindi queste cenosfere e queste particelle forzano diciamo un destino del ghiacciaio già in atto per colpa dei cambiamenti climatici. Il concetto che fanno queste cenosfere, pensate un po' al concetto di una maglietta nera e una maglietta bianca. Non metteremo mai d'estate una maglietta nera, perché essa si scalda molto più velocemente di quella bianca e trasmette questo calore al ghiaccio sottostante. Una singola di queste cenosfere ovviamente non ha nessun effetto apprezzabile, ma quando queste cenosfere sono miliardi e miliardi e associate ad altri prodotti della combustione, come ceneri, come polveri in generale, chiamati black carbon, hanno effetti apprezzabili sul ghiacciaio. E qui si innesca una sorta di circolo vizioso. Gli acciai più piccoli fanno sì che l'energia dal sole riflessa è molto molto minore, l'energia invece assorbita dalla terra è molto molto più alta. Ghiacciai più piccoli, maggiore energia assorbita dalla terra, incremento delle temperature e via di seguito. Si innesca un circolo vizioso che non c'entra in questo momento nulla con la quantità di nitride carbonica, molto devastante per i ghiacciai. Le cenosfere non sono l'unica firma umana sul ghiacciaio. Noi magari pensiamo appunto come i ghiacciai, questa cosa immacolata, vi ho già fatto vedere che assolutamente non è così. Ci sono altre firme della nostra presenza, come in tutti ormai i comparti ambientali. Sul ghiacciaio abbiamo trovato la radioattività di Chernobyl, sicuramente non in concentrazioni pericolose, ma comunque presente e identificabile. Abbiamo trovato il DDT, ormai bandito da anni, ma lì si è accumulato e ora la fusione la sta lasciando andare verso fiumi e laghi ed eccetera. Abbiamo trovato anche tutti quei pesticidi e quegli erbicidi usati nelle coltivazioni a valle, che con lo stesso meccanismo delle cenosfere raggiungono il ghiacciaio e lì si fermano. Recentemente, negli ultimi due anni, abbiamo identificato un elemento antropico che va molto un po' di moda adesso, la microplastica. Ecco, campionare la microplastica su un ghiacciaio non è semplicissimo. Pensate, quando andate su un ghiacciaio tutto quello che avete addosso, dagli scarponi, i ramponi e i tessuti tecnici, sono composte fondamentalmente da fibre di plastica. Quindi, per campionare questo detrito, secondo un rigoroso mezzo scientifico, è chiaro che non posso andare vestito così. Quindi abbiamo trovato la soluzione al problema. Arriviamo vicino al ghiacciaio, ci togliamo i scarponi, i ramponi, i pantaloni, cerchiamo di stare un po' nascrosti magari. Indossiamo questo sobrissimo camice verde in cotone, delle comodissime e soprattutto sicurissime zoccoli di legno ai piedi e iniziamo a campionare questo detrito in vasetti di vetro, anche questi molto comodi, soprattutto se dovete portarli per chilometri nello zaino. I risultati, una volta messo in gioco tutto questo scenario, portato dai campioni in laboratorio, sono stati abbastanza sorprendenti, antidecisamente sorprendenti. Per ogni chilo di detrito raccolto abbiamo trovato 75 particelle di microplastica. Per avere un'idea, una concentrazione comparabile con quella che troviamo sulle nostre spiagge, magari non quelle più inquinate, ma comunque sulle spiagge, quindi evidentemente situazioni decisamente più antropiche, decisamente più importanti. L'effetto che abbiano queste microplastiche sulle comunità, sugli organismi viventi, non è ancora chiaro alla scienza, ci stiamo ancora lavorando, tuttavia sicuramente mangiare plastica non deve essere per nulla piacevole. In questo contesto come vedete tutti i nostri effetti, tutte le nostre emissioni, che siano esse di particelle o che siano esse di gas, hanno effetti su questi ghiacciai. Questi ghiacciai sono uno dei migliori archivi di questo periodo chiamato antropocene. Tuttavia c'è qualcuno che ci sta bene su questi ghiacciai, sicuramente se il nostro rapporto con loro è un po' complesso, ci sono dei batteri perfettamente integrati alla vita dei ghiacciai. Questi batteri anche loro in questo periodo hanno a disposizione un periodo attivo più lungo, l'estate, un sonno invernale sotto la neve molto più breve e vivono in queste depressioni, piccole depressioni di ghiacciai o chiamate chioconiti, dove trovano sostanza organica per nutrirsi, dove trovano ossigeno e dove trovano l'acqua, l'acqua che la protegge dalla radiazione solare. Questi batteri stanno benissimo quindi e si moltiplicano, si moltiplicano e producono sostanza organica che si sparga sui ghiacciai. Ghiacciai di oggi sono decisamente più vivi di quelli di cento anni fa. Tuttavia anche questi piccoli batteri, poverini, senza colpe ovviamente, hanno un effetto molto importante sul ghiacciaio, producono sostanza organica che anch'essa è scura, anch'essa è nera e anch'essa ha una funzione molto importante nell'assorbire l'energia solare, trasmettere al ghiaccio e fondere questo ghiaccio. È un altro circolo che si innesta, perché? Perché chiaramente maggior fusione vuol dire maggiore acqua, maggiore disponibilità di nutrienti e i batteri stanno ancora meglio. Ma quindi, i scenari sembrano abbastanza preoccupanti, ma quindi cosa posso fare io come ricercatore, cosa puoi fare tu per risolvere questo problema? La scienza dà delle soluzioni, per alcune situazioni. Ci sono studi evidenti che dimostrano come impacchettare ghiacciai con telli di plastica o altre fibre funzioni, funzioni davvero a preservare la neve e il ghiaccio sottostanti. Ghiacciai vengono impacchettati a fine inverno e vengono spacchettati all'inizio dell'inverno successivo. Oppure ci sono studi che dicono che l'innevamento artificiale, quindi sparare neve con i cannoni sul ghiaccio abbia ovviamente un effetto positivo. Funzionano questi metodi? Certo che funzionano, ma funzionano limitatamente innanzitutto a delle aree dove la pratica dello sci giustifica sia economicamente ma soprattutto anche ambientalmente questi interventi. Quindi devo proprio dire che non c'è più nulla da fare, che non possiamo fare niente ormai per prenderci cura di questi ghiacciai, che girare sui ghiacciai in mezzo mondo vestito come un pazzo di verde con gli zoccoli ai piedi, oltre a ruinare la reputazione della scienza italiana, non serve a nulla per salvare questi ghiacciai? Forse no. Forse farvi vedere queste immagini e raccontarvi quello che vi ho raccontato oggi e quello che ci raccontano tantissimi studi e tantissime immagini di questo tipo aumenta la consapevolezza in noi. Fa sì che noi tutti, quando buttiamo una bottiglia in plastica via magari nell'ambiente o percorriamo qualche chilometro di troppo con la nostra macchina, ci rendiamo conto che tutte le azioni che compiano hanno degli effetti nell'ambiente e soprattutto apprezzabili nei ghiacciai che sono un po' gli elementi più fragili dell'ambiente. Ma questo vuol dire anche che ogni nostra piccola azione positiva, ogni nostro piccolo gesto per preservare l'ambiente ha effetti molto molto importanti sulla preservazione dell'ambiente e dei ghiacciai in generali. Forse purtroppo per i nostri ghiacciai alpini, così come li conosciamo, è troppo tardi, il dado è tratto, ma tuttavia credo che dobbiamo avere il dovere morale di provarci affinché i nostri nipoti possano vedere questi incredibili spettacoli della natura. Grazie. Applausi. Grazie.